Dopo mesi di tira e molla arriva l'accordo in seno alla giunta comunale di Pescara. La Lega vince la battaglia e ottiene un assessorato in più. Fuori Maria Rita Paoni Saccone di Fratelli d'Italia, che si è dimessa, e al suo posto la leghista Maria Rita Carota. Sono molto orgogliosa e molto soddisfatta per aver ricevuto questo incarico, per aver avuto la stima del sindaco, del mio gruppo politico della Lega. Ringrazio per tutti il capogruppo d'Incecco, tutti i consiglieri, tutti gli assessori, e non da ultimo tutta la macchina amministrativa, che sicuramente dovrà supportarmi per tutto quello che c'è da fare. Confido nella collaborazione di tutti per far venire fuori le migliori idee per far ripartire Pescara. A decidere il rimpasto sono stati partiti. Il primo marzo si è tenuto un tavolo politico del centrodestra, chiesto proprio dal Carroccio, a cui hanno partecipato Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pescara Futura e Udc. Alla riunione il sindaco Carlo Masci non era presente. Carota, già presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute, assume quindi la delega alla cultura e in più quella al patrimonio. Altre deleghe potranno essere ridistribuite. Per assestamento, ha detto il primo cittadino, ma non ci saranno differenze sostanziali. Ma poca roba, nel senso che il nucleo forte è quello già definito a suo tempo. Maria Rita Carota prenderà buona parte delle deleghe che aveva la Paoni Sacconi, con in più il patrimonio che è importante. Ora è probabile che la competenza sull'esilinido vada al vice sindaco Santilli. All'assessore Sulpizio potrebbe aspettare anche la delega alle politiche della famiglia e a quelle sociali. L'assessore Cremonese invece con ogni probabilità riceverà la delega al demanio. Per ora l'assessore allo sport, Patrizia Martelli, osteggiata dalla Lega, rimane in sella. Dal rimpasto, oltre a Fratelli d'Italia, che perde un posto in giunta, ne esce ammaccata anche Pescara Futura, rappresentata da due consiglieri, che al momento sembra aver rinunciato all'ottenimento di un assessorato. Grazie.